La necessità di dotare il mio ufficio e quindi il mio studio di un gestionale che coadiuvasse l'attività delle numerose figure che all'interno dello stesso collaborano è nata circa tre anni e mezzo fa quando lo studio ha subito l'attacco da un virus esterno, il cosiddetto CryptoLocker, che ha completamente mandato in down il nostro server dello studio e da allora ho deciso di cercare una risorsa sul mercato che mi consentisse di avere tutte le informazioni relative ai miei clienti, alle mie pratiche, salvate con sicurezza in un gestionale esterno che mi garantisse non solo il fatto di avere una miglior tutela, miglior difesa contro gli attacchi esterni, ma che dall'altra parte oltre a garantire la privacy mia e dei miei clienti garantisse la possibilità di condividere queste informazioni in qualsiasi momento con i miei clienti ma soprattutto con i miei collaboratori. In particolar modo ho visto proprio cambiare la vita dei miei collaboratori, i quali precedentemente all'introduzione del CLEOS viaggiavano con trolley più o meno pesanti da casa allo studio o dallo studio al tribunale e invece oggi sono in grado di reperire tutti i documenti relativi a una pratica voluminosissima o meno che la stessa sia semplicemente con un banale accesso dal proprio pc o addirittura dal proprio telefonino. Questa possibilità che il CLEOS ha dato ha reso molto più fluide le procedure interne e soprattutto molto più facile per i collaboratori qualsiasi sia l'imprevisto che capita da un giorno con l'altro di poter tranquillamente lavorare da dovunque essi si trovino senza avere necessità di avere il proprio fascicolo cartaceo con sé. Anche proprio il fatto di poterlo avere replicato anche in versione mobile ha reso molto più semplici delle procedure che un tempo avrebbero richiesto una tempistica molto più lunga o molto più complessa. In particolar modo il fatto di poter o acquisire un'immagine col cellulare e caricarla direttamente nella pratica, penso a un verbale all'udienza, o la possibilità di esibire di fronte a un giudice il documento contenuto dalla pratica e che magari non hai potuto portarti dietro perché non pensavi che ti sarebbe servito in quell'udienza o non è dentro nel fascicolo perché è appena arrivato o è ancora in studio, è una cosa estremamente utile. Un altro aspetto che sicuramente Cleos ha portato di positivo nella organizzazione e gestione del mio studio è da una parte un sicuro risparmio in campo di infrastruttura IT, perché mentre prima quando avevo un server fisico in studio contenente tutte le pratiche, tutti i dati dei clienti avevo approntato e avevo dovuto approntare tutta una serie di tutele e cautele tipo firewall, antivirus o altri sistemi informatici volti alla conservazione e preservazione dei dati e degli attacchi che purtroppo non sempre erano efficaci, vedesi il CryptoLocker, in realtà Cleos mi ha risolto queste problematiche perché essendo i dati affidati al gestionare i dati sono sicuramente più tutelati e più protetti di quanto avrei mai potuto fare io. Ho risolto anche un problema non da poco, proprio quello dello spazio, sia virtuale che reale, perché ad oggi tutti i fascicoli che vengono chiusi, vengono una volta che siamo sicuri che sono caricati nel Cleos, distrutti la parte cartacea, fatti salvi relativi originali e conservati semplicemente nel Cleos e questo sta liberando a poco poco muri e muri di scaffali e di armadi. Io consiglierei a Cleos a chiunque, a partire da uno studio piccolissimo con un avvocato e una segretaria, a uno studio composto anche da una cinquantina di avvocati, sia in termini di maggiore efficienza dello studio e quindi del proprio lavoro, sia in termini di maggior possibilità di confronto in relazione a un lavoro comune quando si ha un team di collaboratori con cui lavori tutti i giorni.